Domani è festa, si mangerà, domani è sempre, domanderà, domani solo ci resterà, la voglia del domani verrà, la voglia del domani verrà, la voglia del domani verrà. Cominciamo? E che faccio io le domande a te? La prima cosa che vi voglio chiedere, trattandosi appunto di uno spettacolo che mette insieme un operaio e uno studente, un operaio che è un operaio morto di fatto, e uno studente che è uno studente si marmita, diciamo. Sta sulla soglia di precarietà, su cui nel resto stanno anche molti altri studenti. In questo momento è in quale spazio si svolge questo spettacolo? Si svolge in un purgatorio, in qualche modo, in una terra di nessuno dalla quale è difficile uscire, dalla quale forse non si esce. Un purgatorio agito già, come dicevi appunto tu, da un operaio che è già morto e si ritrova lì a vivere quotidianamente, ammesso che esista la concezione del tempo, no? In quello spazio in cui sta per arrivare anche lo studente. E questo è il senso della delimitazione del ring, diciamo, di terra anche, no? E' anche uno spazio che delimita un po' la testa stessa dello studente e dell'azione di pensiero in cui si svolge, di pensiero incartato. Quindi però ha anche in questo modo l'impressione di non essere esattamente uno spazio storico, diciamo, di non essere, di non avere uno spazio sociale corrispondente. E questa è l'altra cosa che mi ha estremamente interessato. A un certo punto voi vi stringete la mano, è un momento, devo dire, anche molto bello, no? Cioè che siete centrali, voglio dire, rispetto alla visione del pubblico. E devo dire che questa stretta di mano è stata uno dei grandi miti, ad esempio, degli anni 70, cioè l'incontro proprio dagli studenti. All'epoca aveva un'importanza soprattutto simbolica, poi gli operai studenti sono sempre anche poco incontrati, alla fine. Qui mi sembra che abbia, diciamo, addirittura un valore utopico, voglio dire, cioè che voi parliate di un incontro che nella realtà invece non si realizza neanche in scena. Che forse non si realizza neanche in scena. Non solo, ma nel momento in cui, ad esempio, c'è la partita di calcio, in questa perdita di tempo, in questo modo di occupare il tempo, soprattutto in Italia, di stare a seguire le partite o altro, e non faccio nessun tipo di critica, anzi, io sono per primo uno sportivo, un tipo di... Anche in quello si parte con il piede d'uomo a dire, va bene, siamo amici, nonostante ciò, poi c'è una sopraffazione dell'uno nei confronti dell'altro, per forza di cose. Perché nella realtà si legge questo. Ma non c'è forse quel tipo di sopraffazione che poi agisci tu, diciamo, in scena, rispetto a lui? Non è anche un po' quella del figlio sul padre? Sì, perché questo è un atteggiamento, non stavo per dire, che l'atteggiamento dell'operaio è dismesso in qualche modo, quando anche propone la partita. È un po' paternale, ma nel migliore dei sensi, lui non ha una risposta a questo obbrio. Io non accetto il fatto che lui non abbia una risposta, non mi passa proprio per la cara, come si direbbe. E la reazione diventa violenta, fino a provocare lui quasi a potermi colpire, a dimostrargli, a dimostrazione del fatto che non solo non ci può essere un'intesa, ma che alla fine sta nella merda quanto ci sto io, penso che io non può far finta di niente. Questa è la provocazione. È una doppia violenza e doppia provocazione. Perché mentre la mia può essere una violenza agita fisicamente, in qualche modo, invece quella che fa lo studente all'operaio è una violenza verbale, di testa. È una costruzione di cui lo stesso studente è vittima che poi agisce anche sull'operaio. E questo è un esempio nel momento rivoluzionario, ossia nell'incapacità di una rivoluzione sognata dall'operaio e invece completamente cinica e logica da parte dello studente. Un'altra delle cose che colpisce è la presenza di questa lampadina che vacilla, che oscilla, diciamo, sopra le teste dell'operaio e dello studente, che un po' si accende, un po' si spegne, a questa intermittenza, e che in qualche modo sembra rappresentare a un certo punto questa figura che da tempo non rientra più, anche nella rappresentazione, diciamo, che è appunto la figura di Dio, che invece ha una sua parte, diciamo, in questo testo e anche proprio poi nell'azione scenica. Ecco, che questo, diciamo, questo scontro con Dio, soprattutto, perché è chiaramente un Dio che non risponde. Ecco, a questa cosa qui come ci siete, come ci sei arrivato, diciamo? Allora, dunque, per quanto riguarda la scrittura in versi è perché, per come mi piace il teatro a me, penso che il teatro debba avere necessariamente una componente onirica, spettacolare, neonirica, e quindi anche nella scrittura del testo ho pensato da subito a un lavoro sul linguaggio, quindi è un lavoro anche sul verso, quando c'è, sulle assonanze, proprio per trasmettere questa oniricità. Per quanto riguarda le luci, quello che abbiamo chiesto ad Alessandro è di lavorare molto su un rapporto tra buio e luce, per cui ad esempio non ci sono gelatine, sono tutte luci fredde, e solamente sul rapporto tra buio e luce si è andata a costruire poi il resto, che non è solamente il perimetro, tra cui anche la lampadina, che rappresenta non solo lo studiolo dello studente, ma rappresenta appunto una figura impalpabile, che è la figura di Dio, ma come, che però si incarna in qualche modo nella figura anche musicale, che essi neanche era musicista in scena, parla di oniricità, tu hai parlato di metafisica, è secondo me più corretto, il livello di luci sono dei livelli anche, lo studiolo è una sala d'attesa dove Dio non risponde, dove ogni tanto appunto si accende la lampadina della segnalazione di presenza, ma di fatto non accade nulla, e quindi l'invettiva litica diventa, quello che dicevi tu, diventa titania, di fatto, diventa preghiera, anche la riscrittura del Paternostro o di altre liturgie cristiane che ha usato Mauro, di fatto prendono parte ai versi che lui ha composto, che lui ha scritto, che non li sono ritrovati così. Allora però cerchiamo di ricaditolare tutti questi elementi e quello che hanno in qualche modo in comune. Allora, in entrambi i casi, sia nel caso dell'operaio che nel caso dello studente, siamo davanti a un residuo, perché la classe operativa viene considerata un residuo da diverso tempo, in questa parte, il fenomeno delle mani bianche, già lo vengono. Nel caso dello studente siamo davanti invece a una residualità, diciamo anche lì, in qualche modo, di quella che è stata addirittura considerata negli anni Sessanta quasi una funzione sociale, una funzione sociale fondamentale, e via dicendo. Lo spazio di questo spettacolo è a sua volta uno spazio, diciamo, residuato, di resti, cioè di resti fatto di terra, in cui appunto l'unica cosa che può intervenire è la luce come elemento, lui dice, onirico, o forse, come dici tu, utopico, metafisico, comunque sia come l'unico, diciamo, elemento che riesca ad ampliare una condizione che invece è una condizione restrittiva. Cioè, non dà l'aria in questo modo di essere uno spettacolo particolarmente ottimistico, diciamo. Cioè, mia madre l'ha definito nitivissimo per la prima prova. Un po' lo è. Un po' lo è. Io volevo cercare di scrivere qualcosa che diventasse un oggetto di discussione, che partisse da una discussione, e che poi potesse essere preso come oggetto di discussione. Guarda, più che non farti sentire speranza, la speranza è quella che ti faccia l'ener voglia. Quindi questo, in qualche modo, augura questo spettacolo. Cioè, che tu esca dalla sala emotivamente indignato, però che ti venga voglia. E questo è il modo in cui finisce il mondo. E questo è il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto, ma con un pianisteo. Off. Grazie.